Di fondo dico già con orgoglio che siamo probabilmente la regione che ha fatto più passi in avanti negli ultimi decenni sul settore del digitale, innanzitutto sull'organizzazione. La regione aveva un ufficio digitale praticamente quasi inesistente, anche collocato in una posizione particolarmente lontana da tutti i centri vitali e lontana dagli altri uffici. Si è lavorato molto sul potenziamento, con l'ultimo scopramento di un concorso effettuato qualche anno fa arriveremo solamente sull'ufficio della gestione digitale da 160 unità, che ci vede essere la regione leader rispetto anche alle altre regioni come numero di abitanti simile alla nostra. È chiaramente l'affondamento su cui si basa poi una strategia di sviluppo che va invece ad incidere proprio sui servizi per dare ai cittadini. Questa è la base, quindi la base è un'organizzazione efficiente, abbiamo deciso di non fare un'agenzia in questa fase, ma di partire quindi con il potenziamento degli uffici regionali. Adesso l'obiettivo è andare sui servizi direttamente al cittadino. Proprio oggi il Presidente Luca ha illustrato un po' di attività che abbiamo fatto in un ospedale poco distante da qui, dalla città della scienza, ma l'obiettivo vero è nei prossimi anni avere dei servizi a portata di click, come si suol dire. Basta pensare alla diffusione che c'è stata della piattaforma Sinfonia durante il periodo Covid, centinaia di migliaia di accessi che tutti i giorni arrivavano su questa piattaforma. Per noi questa è la piattaforma principale su cui noi contiamo di poter offrire tutti i servizi sanitari ai cittadini. Resta la parte, la regione non è solo sanità e tanti altri servizi in cui anche lì stiamo creando una piattaforma nostra su cui poi i cittadini possono accedere direttamente, per poi andare sui servizi comunali. In questi anni si è lavorato innanzitutto per conoscere, per avere una conoscenza di quello che è il nostro territorio. Nessuno sapeva quali servizi digitali erano presenti all'interno dei comuni, nessuno conosceva qual era la macchina organizzativa dei comuni. Ora abbiamo un quadro pieno, c'è la strategia del PNRR che già porta a implementare tutta una serie di servizi sui comuni, migrazione al cloud, servizi al cittadino. Noi vogliamo oltre a questo integrare altre risorse nostre, abbiamo già deciso e stabilito che molte delle nuove fondi europee verranno destinati a questo settore, però avevamo necessità anche di capire quali servizi complementari possono essere indispensabili. L'obiettivo è, ovviamente, noi puntiamo sempre ad essere un'eccellenza, l'obiettivo è essere la prima regione come servizi digitali, non solo nel punto di vista sanitario, non solo nella regione, ma anche per quanto riguarda il comune del nostro territorio, perché alla fine il digitale non è solamente per mettere una medaglia, perché lo sviluppo economico passa per servizi digitali molto spinti. Le imprese investono là dove c'è infrastrutture, ma anche dove ci sono servizi e quelli digitali sono oggi, mai come adesso, soprattutto dopo la pandemia, sono quelli più importanti. Grazie.